non ci sono potete si chi è? era lei? non ne sono sicura cazzate può darsi che fosse lei non posso dirlo con certezza ma che che stronza aspetta qui non lasciarmi non ci sono non ci sono non ci sono Allora, beh, portami a casa immediatamente! Muoviti! Fuori, ho detto fuori! Cosa? Mi pianti in mezzo alla strada! Spero che il mio cane abbia la rabbia! Ma tu saresti la prima che morderei! Forse la seconda. Salve, agente Bobber. Sempre alla stradale, eh? Potete trattenermi solo per dodici ore senza arrestarmi. Sono qui già da dieci. Sono stufo di te. Qui dice che giochi a fare l'autista per Jim Conway. Qualcuno ci ha mandato il filmato dell'omicidio. Ho pregato Conway di aggravare le accuse. La prossima volta, qualunque cosa tu faccia, accuse o no, passerai ben più di dodici ore qua dentro.